Buon pomeriggio, mi chiamo Ahmed Ciochi e vengo da Chicago, Stati Uniti. Grazie per l'invito e per averci invitati a partecipare a questa conferenza. Ho per voi un po' di notizie buone e un po' cattive. Cattive primo ed otto donne. E l'indirizzo cattivo è che sì, noi siamo la più grande organizzazione negli Stati Uniti, and now I go back to English, which is unfortunately quite a small organization. Siamo la più grande ma che sfortunatamente è molto piccola. And I start like this only because I was struck, because honesty is always a good thing. But also that I'm struck by the similarities between the discussions that you are having here. Sono colpito dalla somiglianza tra le discussioni che voi, cioè noi stiamo avendo qui, e quelle che invece lo hanno negli Stati Uniti. Cioè sono somiglianze che colpiscono per il corso dell'andamento della lotta di classe negli ultimi 20-30 anni. Con la differenza che il corso del qui in Italia è cominciato a un livello molto, molto più alto che negli Stati Uniti. personalmente questa lotta di classe mi hanno forgiato come rivoluzionario quando ero giovane perché ho cominciato in Inghilterra negli anni 70. è che la mia sorella si è sposata un italiano della sinistra italiana e abita a grossetto dell'anno 1979. Allora c'è un interesso personale e familiale. I don't speak political Italian. I don't speak bullshit. My sister wins every time. Let me say that. Okay. In the 1970s, the Italian autoworkers movement, the Italian working class movement, was at its pinnacle. I moved to the United States in 1976. And Detroit, the city of Detroit, the movement of the workers of Detroit, still meant something. As you will know, only a few months ago, the city of Detroit moved for bankruptcy. come probabilmente sapete, cioè sappiamo anche noi, solo pochi mesi fa, la città di Detroit ha chiesto la, andate in bancarrotta. One third of the city of Detroit is now unpopulated, and the city would like to de, how do you call it, to put it outside of the city, so it's no longer responsible. It is a defeat for the American working class movement. And the terms, neoliberalism. è il termine, quindi il termine neoliberalismo o liberalismo, flessibilità al lavoro, nuove regole di assunzione, tutti questi termini hanno avuto origine, di suppressorino, cioè Detroit, e ne abbiamo pagato in termini molto pesanti. And the image of the United States is to be the image of the world. L'immagine degli Stati Uniti è diventata l'immagine del mondo. Except that now the United States intends to compete directly with China. E ora gli Stati Uniti intendono competere direttamente con la Cina. And no one knows where the bottom is. e nessuno sa dove si andrà a toccare il fondo con questo. Sono stati anni difficili, ma con cinque anni senza scioper e resistenza. quindi il nostro compito è costruire organizzazioni rivoluzionarie. è il nostro compito è molto simile ma viene da origini diversi. Ieri sono stato molto colpito dall'introduzione del compagno Franco che quello che esiste in questa sala sono i compagni che appartengono a un'organizzazione di massa cioè quelli che sono qui sono compagni che appartengono a che prima appartenevano anche a organizzazioni di massa. con radici nel movimento telaio con organizzazioni sociali di classe e anche in movimenti. e adesso invece deve ricominciare di nuovo come organizzazione indipendente. sono stato colpito dal termine direzione e la costruzione di una direzione in rifondazione e l'insufficienza o il problema di avere un gruppo troppo piccolo per un gruppo indipendente di 1000 persone. è il problema della difficoltà di avere un gruppo di direzione troppo piccolo per un'organizzazione di 1000 membri. e noi invece abbiamo cominciato con un problema che è esattamente l'opposto. nessun rapporto con i sindacati di massa e con niente nessun rapporto di massa ma con 100 ma con 100 ma con 100 100 no non 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 100 ok 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 ho capito ma ma invece proprio solo con 100 giovani persone molto molto impegnate molto volontari alla fine dell'anni settanta alla fine del anni settanta alla fine del anni settanta e il fine del anni settanta e la cosa più difficile è come riuscire a diventare un'organizzazione che conti che abbia un peso che possa dare un contributo politico e che possa crescere. Come tutto nella politica questa è un'arte ma mi sembra che uno dei compiti di sinistra anticapitalista senza pretendere di essere uno che gli dà dei consigli o che conosce bene la situazione in italiano di cui non ho questa pretesa però mi sembra di identificare due questioni politiche centrali, importanti. di usare la vostra forza, la forza che avete nel movimento sindacale e generalizzare queste questioni anche in altre aree come per esempio gli studenti o altre aree sociali. e noi come organizzazione di un migliaio di persone ci siamo, abbiamo concentrato fortemente sull'uccisione di un giovane Trevon Martin Sì sì, tre monache probabilmente avete letto, abbiamo letto, sì. Il primo significato di concentrazione era di preparare i nostri compagni su tutte le questioni e le questioni politiche. sull'antiracismo, sull'violenza polizia, sull'incarcerazione, sull'incarcerazione, In un paese in cui c'è per la prima volta un presidente nero tutte le organizzazioni di neri sono state silenziosi sull'assassinio di Trayvon. Mentre invece i membri di queste organizzazioni erano furiosi e avrebbero torto il collo ma... perché vogliono fare qualcosa. Ah, vabbè, che volevano fare questo. Beh, do you want to rip whom? Ah, to rip whom? To rip the bosses ahead. Ah, volevano tirare il collo al capo dell'organizzazione. E quindi abbiamo creato in conseguenza non una nuova organizzazione ma... Cioè, città per città abbiamo invece organizzato delle campagne e manifestazioni con il sostegno dei sindacati che hanno trovato supporto sui campus universitari. In altre parole, hanno cominciato a dare un'intersezione tra il sentimento e la politica cioè che hanno cominciato quindi a trovare un'intersezione tra i sentimenti e i stati d'animo, l'organizzazione e la politica. Quindi la creazione di quadri al di fuori dell'organizzazione che possono cominciare a ricostruire delle reti che saranno le basi dei futuri movimenti. Abbiamo di fronte a noi un tempo difficile, tempi difficili perché l'arretramento della classe e la ricomposizione c'è stato l'arretramento e quindi la ricomposizione si dimostra difficile. Mentre però sono d'accordo che è difficile organizzare i precariati che oggi come oggi negli Stati Uniti è una delle aree più dinamiche nel movimento sindacale sono i lavoratori dei fast food e quelli dei settori a bassa paga. Non dobbiamo dimenticare che il sistema della rete mondiale è anche il nostro o nostra. In questa vittoria qui, o in Grecia, o in Egitto, o negli Stati Uniti è una vittoria per tutti noi. Cioè la rete mondiale di comunicazione è anche nostra nel senso che una vittoria qui, o là, in Grecia, è una vittoria di tutti. Ma io anche puoi dire... Allora, grazie mille e speriamo che questo sia il primo contatto di una relazione politica, seriosa e bella. E continua. Grazie mille, compagniere, camarada. E grazie al traduttore. Grazie mille.